Continuano i disagi a basto a causa dell'interruzione dell'erogazione idrica per la rottura di una condotta. L'interruzione dell'erogazione idrica sta creando molti disagi in città, come sottolinea il primo cittadino, Francesco Menna. La crisi idrica è un problema serissimo che riguarda il turismo, il mondo delle imprese, l'agricoltura, il commercio. E' qualcosa di fondamentale. Noi abbiamo messo in campo una vera e propria battaglia. Siamo riusciti ad ottenere dall'Aggiunta d'Alfonso 16 milioni di euro per la diga di Chiauci che alimenta Vastomarina, 2 milioni e 100 per il cerca perdite. Ho dall'Aggiunta d'Alfonso ad oggi zero risorse. Quindi ho l'invito che faccio alla Regione Abruzzo e al Governo nazionale di mandare risorse per efficientare il sistema. Le tubature risalgono sottoterra al 1949. Non è possibile. Bisogna finanziare il sistema della crisi idrica, come bisogna finanziare le fogne e bisogna finanziare la raccolta delle acque piovane per evitare il caso Emilia Romagna. Chi andrà in Europa ha questo obiettivo oggi e avrà questa grande sfida, quella di portare risorse per i comuni. Io da Sindaco di Vasto ho creato una delega crisi idrica, acque nere e acque bianche. Me la sono tenuta io perché voglio litigare con il Governo regionale, con il Governo nazionale e con l'Europa per avere risorse. Grazie a tutti.